C'è Paolo Rossi che voleva domandare. Siete soddisfatti di aver raggiunto il secondo posto oppure pensavate veramente di vincere anche? E se secondo te ha vinto veramente la squadra più forte? Quello non c'entra, si ha vinto la squadra più forte. Ha vinto l'Italia, punto. Scusa. Ari, chi è stato il migliore attaccante del mondiale? Lei è un grande attaccante, forse è stato lei da giocare via? Allora, Mario, è indetto via, è indetto via, Henry. Si è tolto l'aronsolare, è andato. Non poteva sopportare nontra, è stato carino.